Un accordo che permette ai cittadini di avere accesso a dei servizi di prossimità che sono ovviamente un'alternativa ai canali tradizionali con cui oggi vengono emessi da parte delle amministrazioni pubbliche e comunali in particolare. Il nostro servizio qui sull'area di Napoli è distribuito su 22 uffici e sull'area metropolitana di Napoli sono 87 gli uffici dove sarà possibile dopo la fase di sperimentazione fare la richiesta di ottenere questi certificati. Anche a Napoli i certificati anagrafici si ritireranno negli uffici postali dotati di sportello amico, il servizio offerto grazie all'accordo fra comune e poste italiane per aumentare i canali di contatto con il pubblico per la fornitura dei servizi e semplificarne l'accesso ai cittadini. E così certificati come quello di nascita, residenza, stato civile e stato di famiglia saranno emessi dagli sportelli delle poste ai cittadini residenti non solo in città ma sull'intero territorio nazionale. Sì, un accordo importante di collaborazione tra il comune di Napoli e poste italiane per poter ottenere i certificati, a cominciare da quell'anagrafico, in tutta Italia. Nei 5.700 sportelli amici da nord a sud, in 22 sportelli della città di Napoli e in 87 sportelli della città metropolitana. Quindi un servizio in più per i cittadini e una collaborazione tra enti efficace.